Buonasera, benvenuti a Quarta Repubblica. In questo momento è in corso un Consiglio dei Ministri. La cosa, secondo me, e che ve lo dico sempre in questo spazio che mi prendo e vi rubo di idee molto personali, è che non è possibile. Io penso che molti di voi non siano ancora in grado di capire esattamente che cosa sia esattamente quello che si possa fare nei diversi colori dell'Italia. Oggi abbiamo scoperto che ci sarà un altro ridicolo colore, quello bianco, dove si può fare tutto ed chiaramente non ci sarà mai. o che probabilmente i nostri colori cambieranno addirittura a giorni alterni e gli indici di contagio cambieranno anch'essi. In realtà voi pensate che si possa organizzare la scuola, si possa oscarizzare la vostra vita, si possono organizzare i ristoranti, le attività imprenditoriali, ma anche psicologicamente questo stop and go di un governo che alla fine ti cambia le carte in tavola ogni secondo è mai possibile. In questa fase poi c'è un altro grande punto di domanda. E' questo il governo che gestirà i vaccini, l'emergenza, i miliardi del recovery fund? Sarà esattamente questa la compagine governativa. Vi segnalo soltanto che la regione più virtuosa, cioè il Lazio, quella che è riuscita a fare, a somministrare più vaccini in rapporto alla popolazione, beh insomma se dovesse continuare a questo tasso ci impiegherà cinque anni a vaccinare tutta la popolazione laziale. Ed è il Lazio, non è la Lombardia che in questo momento è la peggiore nella somministrazione dei vaccini. Possiamo continuare così? Chiediamolo come prima domanda a Matteo Renzi. Lo ringrazio, il senatore Renzi, perché la ringrazio molto. Oggi è una giornata molto particolare. Con lei voglio essere, voglio dire, schietto come sono sempre. Le dico, lei è stato uno degli attori principali per rinascere questo governo. Oggi lei è quello che questo governo, lo dico semplice, lo sta facendo ballare. Sa che cosa mi dicono tutti quanti sui social? Noi non crediamo che Renzi andrà in fondo. Scusi se parto subito diretto con lei. Io penso che la situazione sia molto seria. Seria a livello internazionale. Parla della drammatica epidemia. L'epidemia c'è in tutto il mondo. Oggi se lei apre un giornale vede una situazione drammatica ovunque. Quindi non è soltanto l'Italia. Però noi in Italia abbiamo qualche problema in più. Noi abbiamo purtroppo la maglia nera o quasi del rapporto tra morti e popolazione. Cioè noi pro capite abbiamo un livello di decessi inaccettabile. Non andiamo benissimo sui vaccini. Abbiamo un pil che è almeno 10%. La situazione in termini tecnici è un disastro. Ora davanti a questo cosa penso io, cosa pensa lei, cosa pensa un altro è secondario. Il punto vero è i patrioti, quelli che amano l'Italia, adesso danno tutti una mano. Non me ne frega niente della discussione di parte destra, sinistra, sotto, sopra. Qui bisogna capire se vacciniamo con dei ritmi diversi. Noi non possiamo avere un sistema in cui Israele mette la gente in fila. Se avanzano tre fiale perché tre non si sono presentati, alla fine esce il dottore della giornata e dice che ci sono ancora tre fiale, chi le vuole. Abbiamo un sistema in cui, piaccia o non piaccia, i vaccini hanno visto le immagini che vediamo di grande parata con i carabinieri a controllare giustamente. Dopodiché era un camion, un bancale. Noi abbiamo bisogno di avere milioni di vaccini. E per avere milioni di vaccini, sa qual è il numero? 200.000 al giorno vanno vaccinati. Noi oggi stiamo intorno ai 20.000 al giorno. Bisogna fare dieci volte meglio. E questo vale per la destra e per la sinistra. Quell'assessore Lombardo che ha detto E che faccio richiamo dalle ferie ai medici? Sì che richiami dalle ferie ai medici. Cioè da fare il vaccino è la priorità per tutti. Gli scienziati sono stati bravi in 11 mesi, hanno trovato il vaccino. Ma bisognerebbe inchinarsi di fronte ai ricercatori. E la politica e la logistica sta a discutere da 11 mesi su quali sono i luoghi dove fare i vaccini. Ecco allora, di fronte a tutte queste questioni, Il tema non è Italia Viva, il PD, la Lega. Il tema è l'Italia. E perché l'Italia funzioni? Io ho messo una serie di punti con molta chiarezza, perché li ho messi per lettera. Nero su bianco. Su questi punti quello che io dico è vero o no? Cioè la vera questione non è Renzi o non Renzi. Io trovo delle persone che non mi sopportano che dicono, anche se l'ha detto Renzi ha ragione. Ecco, anche se lo dice Renzi, questi punti sono veri o non sono veri? Dove mettiamo i soldi del recovery plan? Chi deve gestire i vaccini? Ma perché sempre Arcuri? Ma che è Arcuri? Superman. E i banchi e i rotelli li gestisce Arcuri. E i tamponi li gestisce Arcuri. E le mascherine li gestisce Arcuri. E l'acciaio di Invitaglia lo gestisce Arcuri. E i vaccini li gestisce Arcuri. Che cosa gli facciamo? Facciamogli condurre anche questa trasmissione. Allora, di fronte a questi temi che io ho posto, io vorrei che la gente mi dicesse sì o no. Il governo che le ha detto in questo momento davanti a... Il governo non ci ha risposto. Scusi, oggi lei sui 62 punti del recovery, sulla questione di Arcuri e sulle questioni... Poi ne parleremo. Non ha avuto una risposta. In questo momento Conte non le ha parlato. Ci sono i pontieri, dicono oggi, che parlano con Renzo ogni stanza. Guardi, i pontieri. Facessimo un po' più di ponti in questo paese dove i ponti cascano e un po' meno pontieri. Si starebbe meglio tutti. Siccome non sopporto la solita narrazione, per cui dico una cosa, e mi devono prendere tutti all'attacco sul fatto che Emma e Renzi che lo dice, io le ho messe in nero e su bianco le cose. Stavolta non ce n'è per nessuno. Perché io stavolta ho preso e ho detto Ah, lei sa quanti sono i soldi per il cashback? Lo sa meglio di me. 5 miliardi e 7. 4 e 7 sono io. Sì, 4 e 7. 4 e 7. Nella legge di bilancio del 2021 sono, diciamo, 5 miliardi? Sì. Bene. Lei sa quanti sono i soldi su tutto il recovery plan? Cioè per sei anni, fino al 2026, su giovani occupazione... 90 milioni mi sembra. Un po' di più. Sono 2 miliardi. Ah no, perché 90 milioni sono quelli che sono stati interessati alla finanziaria. Nella legge di bilancio. Sì. Nel recovery plan ci sono 2 miliardi su 6 anni. Per il cashback, soltanto per il prossimo anno, per questa storia della carta di credito, 4 miliardi e 700 milioni. Non funziona così. Tu su giovani occupazione, che è il dramma, il cancro di sto paese, la gente che non trova lavoro e che dal sud scappa, non puoi mettere 2 miliardi in un programma che si chiama Next Generation EU, cioè il programma della prossima generazione. Su questi temi, io non sto facendo una battaglia personale. non me ne frega niente dei miei sondaggi, di cosa faccio da grande, di cosa pensano di me. Volete odiarmi? Odiatemi. Ma su questi punti abbiamo ragione, porca miseria. Bene. E su questi punti ci stiamo giocando il futuro, perché il debito va al 170%. Non si recupera più. Ecco, su questi temi... Però lei è un politico troppo accorto per non sapere che un compromesso ci sarà. Ma va bene. Perché non è che può ottenere tutto quello che pur giusto lei richiede. Per ora non ho ottenuto nulla. Non è che non ho ottenuto tutto. Noi siamo un paese che spende per la sanità circa la metà pro capite di quello che spende la Germania. Sarà anche questo uno dei motivi per cui abbiamo un numero di morti purtroppo più rilevante. Tu dirai, ma prima perché non abbiamo speso i soldi? Per esempio, io quando ho governato ho aumentato i soldi sulla sanità per un totale di 7 miliardi in tre anni, che è poco rispetto ai bisogni. Bene. Nel recovery plan hanno messo 9 miliardi per i prossimi sei anni. Cioè, per anno, meno di quello che abbiamo messo noi in un momento nel quale noi avevamo il limite finanziario europeo e oggi invece si può spendere di più. Allora cosa voglio dire? Spendiamo più soldi sulla sanità. Mi dice perché il Movimento 5 Stelle dice sì ai navigator e no ai soldi per la sanità del MES. mi dice perché il Presidente del Consiglio insiste nel dire che sul MES noi non abbiamo bisogno dei soldi dell'Europa. Andiamo per ordine. Abbiamo un disperato bisogno dei soldi. Sono dei prestiti che servono per rimettere in piedi il servizio sanitario. Sono molti i soldi, possono arrivare a 38 miliardi. È una condizione per lei sine qua non per continuare a stare con questo governo? Lei mi dice non mettere i paletti su tutto. Io non posso dirle o si fa così oppure me ne vado o si fa così o me ne vado perché se no la narrazione continua a essere Renzi il solito rompiscatolo e il solito Pierino. Io sto dicendo però che se uno va in un ospedale anche oggi ci sono stati meno del solito 10.000 contagiati ma ci sono stati 10.000 persone che sono state contagiate se vai in un ospedale se entri in un pronto soccorso sai che la sanità ha bisogno di soldi. Quindi secondo me sul MES bisogna dire di sì. Lei mi vuol dire di no. Mi spieghi perché? Ma no, ma non sto dicendo questo. Io sto cercando di capire una cosa. io sto cercando di capire perché lei ha fatto delle proposte che tutti noi conosciamo a casa conoscono ha parlato con il ministro Bellanova soltanto una settimana fa che ha detto le stesse cose nel senso che ovviamente fate parte del senso e le dice anche in consiglio dei ministri perché tutti retroscena dicono che il consiglio dei ministri rompe un po' le scatole rispetto al governo. La Bellanova diciamo non ha bisogno di retroscena le cose le dice in faccia. È una straordinaria donna capace di dire la verità. è la cosa che oggi tutti si chiedono. Il conte 2 che vuol dire queste robe che lei ha raccontato. è finito? Io credo che prima di discutere Senatore mi faccia capire a me io domani mattina devo dirlo a mia madre devo dire è finito il conte 2. Io penso che sua madre abbia bisogno di sapere le scuole aprono o no? E questo non lo saprà neanche stasera. E questo però è inaccettabile sarà che io ho una moglie insegnante due figli su tre studenti di liceo e l'altro studente universitario ma lei si rende conto che siamo al 4 gennaio ma col conte 2 non aprono le scuole scusi lei si lo sa senatore che col conte 2 non aprono lei mi vuole portare sulla discussione politichese pura e la capisco non politichese pure conte bis conte ter draghi se arriviamo per carità io però prima vorrei far capire l'urgenza che in questo momento è più importante io non sono io non sono uno che arriva da Marte non sono una verginella che non conosce i giochi politici le so fare queste cose le so discutere sono tutte robe da dette ai lavori ora però non servono in questo momento prima di arrivare a decidere chi farà il leader del futuro la domanda è siamo d'accordo o no che servono gli investimenti perché se no i nostri figli altro che Next Generation EU non avranno i soldi per riparare il debito se lei avesse qua conte davanti direbbe certo che lei ha ragione a me conte non ha risposto io ho posto una serie di temi il primo lo dicevamo prima le spese della sanità secondo i 5 stelle hanno detto di no all'alta velocità Torino-Lione ancora tanto per cambiare penso che se c'è una cosa che ha reso l'Italia un paese unito è l'alta velocità però qui ci sono due Itali io sto a Firenze prendo l'alta velocità e vado a Roma in un'ora e mezzo e vado a Milano in un'ora e mezzo uno che sta a Salerno ancora ancora gli arriva l'alta velocità per andare al nord ma c'è un problema di mezzogiorno che è totalmente fuori dalle rotte dell'alta velocità e questo è un tema fondamentale abbiamo tutti questi soldi spendiamoli per il mezzogiorno al sud diamo i lavori i cantieri le infrastrutture non i navigator e il reddito di cittadinanza questa è la differenza se tu metti davvero delle opere pubbliche serie al sud uno richiami turismo perché più è efficiente l'organizzazione infrastrutturale più è semplice arrivare le Baleari hanno centinaia di voli contro la Sicilia che ne ha qualche decina dirai ma non è importante caspita se è importante per il turismo che adesso ovviamente è drammaticamente fermo due non c'è soltanto il tema infrastruttura e sanità lei come se lo immagina il paese tra dieci anni io me lo immagino come un paese che investe sul capitale umano cos'è il capitale umano? la capacità di fare grande l'Italia attraverso cultura educazione e ricerca però su questo bisogna parlare anche un linguaggio un po' innovativo l'Italia deve attrarre cervelli noi abbiamo persi tanti cervelli in questi anni questo vuol dire che le nostre università che devono essere sempre meno burocratiche sempre più capaci di competere due semestri già persi durante il vostro governo due semestri già persi ministro scusi senatore ma io non sono ministro se fossi stato ministro lei sa che le cose sarebbero andate leggermente diverse lei non è che va a fare il ministro ecco questa è l'altra domanda no e come dire mi sembra evidente perché tutta la scena è lei si fa sto casino scusi diciamolo con un francesismo giuridico fa tutto sto casino per andare a fare il ministro della difesa come dicono tutti i boatos lei vuol fare il ministro della difesa questo è la difesa va bene la difesa leggo di tutto io non sto facendo sta roba per me è chiaro lo diciamo quindi lei non farà il ministro mi dia questa camera qui non sto facendo questa roba mi dia il gomito non faccio il ministro forza mi dia il gomito lei non fa il ministro ma nemmeno io neanche lei ma certo che non faccio il ministro ma scusi si immagina se dopo tutto sto casino io mi metto d'accordo con Conte per andare a fare il ministro io il problema è un altro porro mi scusi mi faccia fare un passo indietro il problema è che se queste cose sono vere anziché direle a detterenzi le vogliamo fare quattro anni fa c'è stato un referendum sui rapporti tra Stato e Regioni quel referendum ha fatto vincere per motivi di personalizzazione bla 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 il no e oggi il rapporto Stato-Regioni è un rapporto che ha mostrato il proprio limite caspiterina possiamo dirlo che allora avevamo ragione noi come avevamo ragione noi a dire otto mesi fa riapriamo le scuole sa quanto abbiamo speso con i banchi a rotelle 340 milioni 461 mi ha fregato i 100 no io non ho fregato niente non si sa mai ma poi a fare subito 461 milioni per non andare a scuola è la cifra che il commissario come si chiama il commissario Arcuri Arcuri perché quando c'è un commissario prima c'era Basettoni ora c'è il commissario Arcuri quando il commissario Arcuri ha fatto un'intervista al Corriere della Sera ha detto 461 milioni bene io le domando ma che cosa ce ne facciamo dei banchi a rotelle se non abbiamo fatto il trasporto pubblico locale per portare i ragazzi a scuola per mandare i ragazzi a scuola cosa serve sa cosa serve il tampone perché se io faccio il tracciamento a tappeto ormai con il tampone come dire il tampone antigenico si fa costa 3 euro 4 euro prendi il tampone o come in questo caso il tampone antigenico lo fai col naso quello prima era con il ditino di sangue guardi se c'è una righetta vuol dire che sei negativo se ce ne sono due sono positivi ma è una cosa semplice semplice ma perché noi anziché spendere 461 milioni per i banchi a rotelle non abbiamo fatto i tamponi e la Belanova si è alzata dicendo non voglio i banchi a rotelle l'ha detto in tutte le sedi ma il problema non è che può essere che se io dico se Italia Viva fa delle proposte rompe le scatole se sta zitta e fa parte del governo e ragazzi alla fine posto che noi abbiamo fatto una battaglia ma la Belanova gli andrebbe fatto un monumento alla Belanova anche alla Bonanova e infatti io sono le uniche due che sono pronte a dimettersi Porro questo è un paese in cui i banchi sono a rotelle ma le poltroni Salvini e i suoi ci sono dimessi tutti Salvini e i suoi hanno preso una sfiducia perché se no si sono dimessi tutti quanti i ministri hanno detto ciao a questo governo quello che uno si aspetta fatemi vedere la foto fatemi vedere la foto faccia il bravo Porro non faccia la difesa di Salvini l'ufficio non serve io le sto dicendo questo è un paese in cui ci sono i banchi a rotelle e le poltrone sono fissate con il black and decker la Belanova e la Bonetti me l'hanno detto anche hanno detto noi se volete le nostre idee ci stiamo se le vostre idee se le nostre idee non vi piacciono andiamo a casa non mi metta nel mezzo Salvini perché Salvini ha fatto un tentativo un'estate e mezzo fa un anno e mezzo fa di fare quello che lui chiamava la richiesta ai pieni poteri gli è andata male in Parlamento ha bevuto e allora è stato costretto alle divisioni la stessa cosa che il Presidente Conte dice con il Senatore Renzi andiamo in Parlamento e contiamoci l'ha detto proprio uguale il copione è identico scusi mi perdoni lasci perdere lei ma il copione di Conte ha detto bene ha fatto queste cose non ci abbiamo quando è la data del Parlamento lei lo sa quando è la data del Parlamento quando è la riunione che dovrà tenersi perché io ho letto anch'io che il Presidente del Consiglio ha detto ci vediamo in Parlamento ha detto ci vediamo in Parlamento aspettiamo che dobbiamo dire non penserà mica che con uno come me andare in Parlamento suoni come una minaccia andare in Parlamento è democrazia attenzione il Presidente del Consiglio avrebbe dovuto partecipare alle riunioni del Parlamento quando si discuteva la legge di bilancio anziché fare con Rocco Casalino una conferenza stampa a Villa Madama visto che dice la centralità del Parlamento non venga da me a parlare a dirmi il Parlamento io non ho paura del dibattito parlamentare e se lui attraverso la senatrice Mastella ed altri ha i numeri per governare senza di noi porro evviva perché parliamoci chiaramente io non sarò complice della spesa di soldi di denari buttati via in modo assurdo dall'Italia il presidente del Consiglio ha detto che entro l'epifania nei giorni successivi l'epifania è il 6 gennaio non può cambiarlo neanche un DPCM persino se lo dice Renzi è il 6 gennaio quindi questo non si cambia con DPCM e nemmeno se lo dice Arcuri il 6 gennaio ha detto che porterà il recovery plan anche lì anche lì il recovery plan non l'aveva letto nessuno nemmeno lei lei però non fa il ministro e non lo farà fortunatamente come lei noi non facciamo più ministri come fortunatamente per il paese direbbe qualcuno allora il documento del recovery plan non l'avevano letto quando siamo andati alle riunioni e l'abbiamo letto noi abbiamo detto ragazzi così non va bene ci sono troppi soldi su spesa per bonus e pochi per investimenti e abbiamo fatto lo ha ricordato lei e la ringrazio 62 osservazioni di merito fatte dai deputati e senatori di Italia benissimo a parte il fatto che io aspetto che il bravo ministro Gualtieri mi dica quelle delle 62 che condivide e quelle che non condivide ma non dovrebbe essere oggi questo primo stiamo aspettando che ci rispondano ma sa quando scrivi una lettera prima o poi la risposta arriva il punto però fondamentale è che si rende conto che questo documento non l'avevano letto porro non l'avevano letto e poi dicono che sono il pirino io perché dico ragazzi non va bene noi le svero un segreto non credo di dire una cosa drammatica io il giorno di Natale persino il giorno di Natale ho chiesto eravamo tutti insieme con la mia famiglia come tutti ho seguito le regole del DPCM sicché eravamo soltanto noi cinque padre madre e tre figli io mi sono preso due ore perché ero in ritardo per scrivere parte delle osservazioni al DPCM al recovery plan persino il giorno di Natale perché ci è stato detto che avevamo quattro giorni per fare le meditazioni 27 dicembre cinque giorni e persino il giorno di Natale i deputati e i senatori di Italia Viva hanno fatto un lavoro di analisi ma se quegli altri non l'avevano nemmeno letto siamo noi gli irresponsabili perché chiediamo di verificare le cose o gli irresponsabili sono quelli che noi queste cose non le hanno nemmeno letto lei mi aiuta a capire una cosa due domande facciamola una per volta la prima siccome un azionista di questo governo oltre a lei è anche il PD di Zingaretti oggi Zingaretti ha detto anche lui che bisogna bello rafforzarlo cambiarlo però ha detto con Conte quindi state dicendo la stessa cosa con Zingaretti così faccio proprio il periodo io non sto parlando no ma non voglio fare polemica voglio capire perché lui dice la stessa cosa dobbiamo dare uno sviluppo dobbiamo dare un governo se Zingaretti dice che bisogna spendere i soldi del MES secondo me ha ragione se Zingaretti dice che sui vaccini dobbiamo fare di più e la regione Lazio veniva ricordato prima è quella che sta facendo meglio ma se dobbiamo fare di più io sono d'accordo il modello è Israele in Europa il modello è la Germania se Zingaretti dice che bisogna fare più investimenti e meno spese per robe stile cashback e navigators io sono d'accordo con lui potrei continuare dopodiché qual è la squadra la squadra viene alla fine Porro non è un tentativo di svicolare la domanda però le posso fare una domanda nomina sunt conseguenza verum cosa vuol dire vuol dire che le nomine arrivano come conseguenza delle cose che decidiamo di fare ma è tutto evidente quello che sta dicendo però siccome io mi ricordo di lei che si alza in Parlamento ed è molto seccato per esempio sulla prescrizione e quella norma fatta sia dalla Lega sia dal Movimento 5 Stelle nel primo conte se lo ricorda bene anche gli italiani che ci seguono non hanno fatto tante di follie lasci perdere mi faccia finire il ragionamento le persone contano cioè il ministro della giustizia è quello che vuole questa prescrizione il ministro delle infrastrutture è quello che forse si occupa delle infrastrutture e anche contro l'idea del Movimento 5 Stelle di non fare la Torino quindi per quello io le dico è vero che le conseguenze delle nomine vengono dopo cioè le nomine vengono dopo ma lei può immaginare questo governo che adotti un radicale cambiamento di prospettiva che lei mi sta raccontando scusi se insisto su questo perché i passaggi parlamentari proprio perché io penso che la democrazia sia importante sono fondamentali il presidente del consiglio ha detto che questo è il governo con i ministri più bravi del mondo esatto io gli ho detto che non ero propriamente convinto ma l'ho detto in pubblico sì dopodiché è partito il cancan mediatico Renzi vuole andare a fare il ministro Renzi vuole tre sottosegretari sa dove glieli sbatto i sottosegretari io? sotto il naso perché un sottosegretario in più o in meno senza la chiarezza su quello che deve essere fatto è una presa in giro nei confronti degli italiani e noi siamo l'unico partito che diciamo ve li lasciamo tutti i posti vi lasciamo non soltanto il sottosegretario che abbiamo ma anche i due ministri che abbiamo se non ci aiutate a capire cosa serve se lei non ha una risposta entro il 6 lei i ministri li toglie dal governo? io abbiamo detto al presidente del consiglio che aspettiamo la sua risposta per il recovery plan e lui ha detto che ci avrebbe convocato in consiglio avrebbe convocato i ministri il 6 gennaio per cui questa data del 6 gennaio viene dalla scelta del presidente del consiglio dopodiché lei mi dice mandate fino in fondo o no? sì è la prima domanda che le ho fatto vedo che se l'hai ricordata sono contento se non gliela avrei richiesto ho 46 anni non è così ancora qualcosa mi ricordo il punto fondamentale per me è il seguente noi abbiamo fatto degli accordi e dei compromessi tante volte tante volte ed è difficile fare compromessi in politica perché poi ti accusano di essere incoerente però la politica è anche compromesso certo un grande scrittore israeliano Amos Holtz diceva che il fanatico è un punto esclamativo ambulante e che la vita è fatta di compromessi quindi i compromessi vanno fatti a chi vi dice io non ho mai fatto compromessi in vita mia vi prende in giro si fanno compromessi in casa in famiglia con la moglie col marito con gli amici sul lavoro si fanno i compromessi il punto è quando quel compromesso non è più accettabile sulla giustizia lei citava buona fede io mi sono dovuto non dico violentare ma controllare ben bene per votare a favore di buona fede e non mandare a casa il governo in un momento difficile eravamo nella prima ondata piena prima ondata mi sono dovuto spesso mangiare come dire la lingua morder la lingua e dare il via libera a cose che non condividevo altre volte l'hanno fatto loro perché sul family act sul piano sblocca cantieri eccetera oggi penso però che siamo in un momento leggermente diverso e gliela dico così ora o mai più i 300 miliardi dell'Europa alla faccia dei sovranisti qualche volta anche sua alla faccia dei sovranisti che dicevano l'Europa non ce la farà l'Europa ci ha dato 300 miliardi poi c'è un secondo problema i vaccini ora o mai più ogni vaccino ritardato è una vita a rischio sì però lei su Arcuri non ha chiesto niente oggi mi ha fatto queste battute però Arcuri tutti questi poteri li ha presi col vostro governo sono stato l'unico che ha detto che sui vaccini bisognava prendere l'esercito sono stato dall'annunziata non da lei ma vale lo stesso in Parlamento come abbastanza e da Lucia Annunziata a dire bisogna dare l'incarico di gestire il vaccino a una struttura che non sia la solita ho detto so che interessa meno agli italiani perché vaccini scuole ristori infrastrutture gli italiani ti seguono perfettamente quando vai sui servizi segreti la gente dice ma che roba è è incomprensibile io non la capisco sta cosa ai servizi se lo faccio a dire io non la capisco immagini io no ma non capisco né il Presidente del Consiglio né lei non mi sembra tutte le cose che le ha detto sono fondamentali bene fondamentali guardi io poi dopo uno può essere d'accordo ma tutta sta roba sui servizi segreti perché li controlla Conte tanto li controlla in ogni caso Conte io penso che lei a parte che ha mollato subito su sta roba Conte dicono non lo so io penso che ci sia bisogno anche di un rispetto delle forme democratiche Silvio Berlusconi quella delega la data Romano Prodi quella delega la data Massimo D'Alema quella delega la data D'Alema la data a un ministro che si chiamava Sergio Mattarella Mario Monti quella delega la data nel mio piccolo quella delega l'ho data Marco Minniti Marco Minniti non mettere in mezzo la roba che non c'entra Marco Minniti De Gennaro l'ha messo Monti Berlusconi De Valetta D'Alema Mattarella io non capisco perché se c'è una consuetudine che come lei sa è fonte del diritto di dare una delega anche alla luce di una legge che è la legge del 2007 la 124 non capisco perché si possa scherzare sull'intelligence e arrivare al punto che il portavoce del premier si chiama Rocco Casalino va a Benghazi Libia una situazione un po' complicata e per fare lo splendido geolocalizza il luogo nel quale si trova il presidente del consiglio e il ministro degli esteri in un bunker riservato e segreto allora se tu stai giocando con le istituzioni quello non è il grande fratello dove metti la geolocalizzazione la serietà delle istituzioni è una cosa che non si può mettere in discussione perché Conte su una cosa così questo però lo chiedo a Conte lei mi dice perché è importante alla gente interessa meno dei vaccini ma è per la tutela delle istituzioni importante come il fatto di non fare la legge di bilancio in tutti e due rami del Parlamento cioè lei sa che io volevo abolire il bicameralismo paritario ci ho perso il posto per questo perché avevamo chiesto il senato non è neanche passato questi non li fanno nemmeno passare allora tutti questi punti ed è una cosa gravissima perché la forma in democrazia è sostanza allora per farlo vedere io non ci ho capito nulla io sono d'accordo con lei su tutto io non ci ho capito nulla guardi 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 tutto bene quello che dice ma che esca dal governo allora un messaggio di un elettore di centrodestra questo è un elettore di centrodestra tutto bene quello che dice lei non ci crederà ma che lei nel suo cellulare che non voglio rivedere perché per carità di Dio mi faccia vedere che ci sono degli elettori di centrodestra le garantisco che ci credo no perché non vorrei che lei adesso ci rimanesse male dicendo guarda da Renzo me l'aspettavo lei abbia qualche elettore di centrodestra che la segue quello che però io vorrei dire agli italiani oggi è che in questo momento non è più una questione di destra-sinistra centrodestra-sinistra è una questione di patriottismo l'Italia ha dei soldi che non ha mai avuto nessuno prima di noi in questo momento ci sono 300 miliardi 209 più il MES 209 più il 36 del MES siamo a 246 45 36 se lei ci aggiunge i 20 del Shure siamo a 265 se lei ci aggiunge la programmazione siamo ben oltre 300 miliardi quindi non mi faccia maestrino ma non è lei è uno che dice che in questo momento il patriottismo meloniano tutti dentro no io non dico tutti dentro io dico prima di discutere delle cose che interessano a lei cioè le formule della politica mica sono a lei ma si figuri a me che mi frega delle alchimie però possiamo capire se ciò che io sto dicendo è giusto o no ma io voglio chiedere al premier ma anche a lei ai miei possiamo stare sui contenuti vaccini si può fare meglio sì o no le persone sono fondamentali per i contenuti quando siamo d'accordo sui contenuti scegliamo le persone sono d'accordo con lei quindi queste persone comunque non sono le migliori del mondo oggi a fare questo governo secondo il presidente del consiglio sì secondo me no però la valuta siccome io non faccio presidente del consiglio sarà il presidente del consiglio che rimane questo che sia Conte o sia un altro lo vedremo ma lei è diventato come Zingaretti è impossibile intervistarla stavo per dirle no ma lo dico come con ma io non mi sento non mi sento offeso dal paragone non è che offeso ma se sto parlando il segretario è il partito più importante italiano più che dirle uno dei più importanti più che dirle A cosa penso sui vaccini B cosa penso sui fastrutture cosa le devo dire è chiaro che lei sognerebbe il titolo dicendo Conte a casa Draghi in campo no no Draghi non ci crediamo molto tutte queste robe qui servono per alimentare un chiacchiericcio sa qual è il simbolo di questa discussione del cavolo me lo fa dire vada siete stati mesi a ragionare dell'obbligo vaccinale tutti le trasmissioni nel frattempo che si discute se c'è l'obbligo vaccinale o no ci sono 400 mila vaccini per 60 milioni e quei 400 mila vaccini nessuno li utilizza il 10% ma le sembra un paese normale uno che anziché discutere di come fare a intanto vaccinare quelli che si possono vaccinare fa le discussioni filosofiche allora delle discussioni io amo la filosofia ma delle discussioni filosofiche non so che farmene a me interessa una cosa uno che i miei figli sappiano se vanno a scuola o no io trovo assurdo lei lo sa? io non lo so lei lo sa? io non lo so trovo assurdo che non si sappia perché la didattica a distanza è un qualcosa che non risolve sua moglie non fa la professoressa non insegna ma lei ci va a scuola il 7% e sua moglie saprà se andrà mia moglie è una che come tutte le professoresse sta facendo riunioni del collegio dei docenti per capire se la didattica a distanza è al 75% o meglio se rientro al 75% perché prima doveva essere il rientro al 75% in classe poi rientro al 50% in classe i dirigenti scolastici vecchi presidi stanno perdendo la testa per fare i vari strumenti le varie ipotesi ma se anziché fare i banchi a rotelle si fossero fatti i trasporti e i tamponi forse oggi non saremmo in questa condizione e chi l'ha detto questo per primo? chi l'ha detto? chi l'ha detto lo ricordi? l'ha detto lei e allora lo dica no lo dico perché io non riesco guardi che c'è scritto quel cronometro là sono passati 25 minuti 30 minuti di intervista con Renzi senatore Renzi ex presidente del consiglio e ho capito solo una cosa che lei non farà il ministro che è già un passo avanti rispetto alle domande se però su quella cosa dei vaccini delle infrastrutture dei cantieri non ha capito nulla porro su quelle lo capite ma io ancora ci conosciamo a qualche anno alla fine voglio dire parliamoci chiaro 168 per cento di debito è un numero che non si recupera più che numero dà a Conte voto da 1 a 10 ma figuriamoci se sto mai mai è lui che fa professore non io io faccio semplicemente l'umile ragazzo di bottega sui numeri 168 per cento sul debito pubblico sa che vuol dire porro? che noi o facciamo una crescita seria o non ne usciamo nel frattempo il mondo gira oggi è arrivata la notizia che è stato tolto il blocco del Qatar dei paesi del Golfo gli Stati Uniti avranno domani un'elezione importantissima in Georgia piaccia o non piaccia la Cina ha siglato un accordo con la Merkel e con Macron purtroppo noi non c'eravamo un accordo storico l'Africa ha fatto un accordo storico dal 1 gennaio 2021 diciamo di libero mercato ma è un po' riduttivo la Brexit in UK il mondo fuori da qui corre nel Mediterraneo noi tocchiamo sempre meno palla e la Turchia tocca sempre più palla su questi temi che riguardano la politica perché non parla nessuno? perché c'è bisogno delle persone che ne parlino io sono qui a parlarne e le dico bisogna dare una scossa una smossa e un salto di qualità bene allora io la ringrazio ho capito che Conte può stare sereno questa però se l'era preparata da otto giorni lei era otto giorni che faceva e lei però non mi deve rispondere sulle stamattina lei si è svegliato ha detto alla fine per salutare Renzi gli faccio Conte e stare sereno ma però potrebbe fare meglio lei è una fantasia se c'è uno a cui non conviene di restare sereno è Matteo Renzi quindi io non me lo farei dire da nessuno ma in particolar modo da Renzi va bene setta senatore noi stiamo sedendo per una volta che devo fare? i contenuti ma non facciamo altro scusi sono due anni che stiamo qua con tutti questi contenuti è la prima volta che ho la possibilità di dire ai nostri telespettatori che c'è che è d'accordo con me e che diamo la solidarietà ha presente scusa di Fonsi? ha presente Fonsi che non riesce a dire scusa? io che le do ragione è come Fonsi che chiede scusa davanti allo specchio vorrei dire che io farò l'alf-malf dai va bene vediamo questo servizio sul curma ieri arrivederci senatore Renzi grazie